Un assordante silenzio quello che avvolge il centrosinistra Lucano in attesa di sapere l'esito dell'incontro romano che questa mattina ha messo a confronto Angelo Chiorazzo con Ellie Schlein, un silenzio che non sembra essere né frutto di riservo né tantomeno di una discrezione politica, bensì di mancata conoscenza dei fatti. Da qui si intuisce che si potrebbe essere vicini ad una soluzione, quale sia però resta affidato alle supposizioni e dalle indiscrezioni spesso infondate che circolano da giorni. Quello che emerge è un paventato ottimismo sul buon esito delle trattative, sentimento dovuto ai riflessi del voto sardo che ha consegnato a PD e Movimento 5 Stelle una vittoria a frutto dell'alleanza. Pare però che in Basilicata questa intesa sarà possibile solo sacrificando, politicamente si intende, la leadership di Angelo Chiorazzo come candidato di coalizione. E' proprio su questo fronte che si lavora da giorni nella capitale, dopo diversi faccia a faccia, uno di questi, il primo da quando si cerca l'intesa, tra lo stesso imprenditore di Senise e vertici locali e nazionali dei Grillini, da sempre contrari alla convergenza sul suo nome. Secondo alcune indiscrezioni, Chiorazzo potrebbe decidere di rinunciare alla sua candidatura con Basilicata Casa Comune per un più nobile interesse generale, spinto dalla volontà di provare a togliere la guida della Basilicata all'attuale governo di centrodestra. Un'ipotesi questa che però fa emergere alcune perplessità, soprattutto tra la maggioranza della direzione regionale DEM, da sempre ostinatamente convinta nel sostenerlo. Altresì, a conferma dei legittimi dubbi, una simile opzione significherebbe archiviare tutto il percorso politico fatto di incontri sul territorio e comunicazioni progettuali che da circa sei mesi Basilicata Casa Comune ha strutturato. Mancano poche ore e a quanto pare si potrebbe davvero scrivere la parola fine su una complessa ricerca di unità che paradossalmente potrebbe passare dalla rottura con Chiorazzo.